Buonasera contadini, allora eccoci qua dopo un po' di tempo con un video girato in presa diretta senza montaggio al tramonto di questa sera del 15 ottobre ed è per darvi un annuncio. L'annuncio è che ho scritto un libro, eccolo qua, si chiama Modelli di turismo rurale, fa parte di una collana che si chiama Bed & Business, in cui sono insieme ad altri compagni d'avventura meravigliosi di cui vi racconterò e mi chiedevo come presentarvelo. Perché presentare un libro è sempre una cosa, vi dico la verità, non semplice, perché corri sempre il rischio o di dire che sei bravo, comprate il libro, ma a me piacciono i contenuti, cioè a me piace portarvi del valore con questi video, con quello che faccio, anche con questo libro che ho scritto. E allora mi è venuta quest'idea. Facciamo un video tutti i giorni, fino al giorno in cui sarà disponibile, che è il 21 di ottobre, quindi fra una settimana, dove in questi video dirò un episodio di come è nato, o vi presenterò, diciamo, una parte del team, dello staff, di quello che ci sta dietro e un contenuto del libro. Quindi comincio subito oggi e vi parlerò di come ho conosciuto Danilo Beltrante, che è la persona che ha immaginato questa bellissima collana sul turismo extralberghiero, che è il turismo, si capisce dalla parola, no? Extralberghiero, quindi quello degli agriturismi, dei bed and breakfast, delle dimore gestite, eccetera. Danilo è il fondatore, conduce una delle scuole di turismo più importanti in Italia, che si chiama Vivere di Turismo, e gli è venuta quest'idea. Ci siamo conosciuti a Salina, più di due anni fa, dove partecipavamo entrambi ad un evento organizzato da un amico comune, Chavede Francesco, che saluto di cuore e non finirò mai di ringraziare. Quindi Danilo ha fatto lì il suo intervento sul turismo ed è stato forte perché corrispondeva esattamente alla mia visione e colmava alcune lacune che io avevo ed ho ancora. E quindi l'ho preso subito appena sceso dal palco dopo il suo intervento e abbiamo fatto una chiacchierata, se non ricordo male, di un'ora o più, al termine della quale Danilo mi ha chiesto questa cosa qua. Mi ha chiesto Pietro, ma perché non partecipi a quest'idea che ho avuto, quindi di fare una collana di libri sul turismo extralberghiero, e mi piacerebbe che tu parlassi di turismo rurale. Wow, per me è stato prima di tutto un onore e poi mi è sembrata davvero che cascasse a fagiolo, che calzasse a pennello, nel percorso che stavo facendo e che sto facendo ancora, in particolare riguardo Rural Academy. E per cui gli ho detto di sì ed è cominciata la genesi di questo libro. Nei prossimi video vi dirò ancora qualcos'altro. Passiamo al contenuto. Allora, il contenuto non può che essere questo oggi come primo video. Cos'è il turismo rurale e a chi interessa? Perché poi questo libro è interessante per diverse persone, ma vediamo come e perché. Anzi, vedremo, perché ne parleremo nei prossimi giorni. Allora, intanto, il turismo rurale è quel turismo che si pratica nelle aree rurali, quindi non in quelle urbane, dove per aree rurali si intende questo che vedete. Quindi la campagna, la collina, ma anche dalla montagna alle zone di pianura, ma appunto non aree urbane, eccetera, eccetera. Quindi è molto ampio. Si capisce che non si parla solo di agricoltura, ma di molto di più. E quindi in queste aree si pratica turismo, ma come? In maniera sostenibile e comunitaria, intesa per il fatto di coinvolgere le comunità che abitano questi luoghi rurali. Quindi capite bene che è già un tipo di turismo che porta in sé dei valori profondi, quindi etica, sostenere l'ambiente, farlo evolvere, eccetera, eccetera. Andiamo adesso a vedere chi sono i potenziali attori del turismo rurale. Allora, abbiamo vari gruppi. Possiamo dire le amministrazioni, perché chi si occupa di gestire e far evolvere il territorio, spesso si trova ad occupare posti di responsabilità nelle regioni, nei comuni, eccetera. Poi ci sono le persone che si occupano di turismo, perché sempre di più il turismo richiede elementi esperienziali. Quindi parliamo di agenzie turistiche, guide turistiche, proprietari di alloggi e ancora altro. E poi naturalmente chi si occupa di agricoltura e ambiente, quindi aziende agricole, agriturismi, associazioni di categoria e ancora tanto altro. Per cui capite bene che c'è davvero un interesse a tutto tondo, per non parlare poi dell'artigianato locale, di chi si occupa di musei, di intrattenimento, anche per tutti gli aspetti popolari. Ecco, di nuovo è giusto a rimarcare questa cosa qua, che è davvero a dampissimo spettro. In questo libro quindi parlo a tutte queste persone. Per ora mi fermo qui, perché voglio fare dei video piuttosto brevi. Ne farò appunto uno al giorno fino al 21. Nel frattempo, se avete voglia, potete già andare sul sito di Dario Flaccovio Editore o su Amazon e trovate il libro già disponibile in prevendita. Sul sito di Dario Flaccovio trovate anche le prime pagine, per cui potete andare a cominciare a leggervi qualcosa. Grazie mille, a presto e continuerò a raccontarvi questa bella cosa che mi è capitata di fare. A presto!